come divulgare la scienza in modo nuovo credo che la scienza sia contenuto quindi per chi fa il mio mestiere che è quello di cercare di coniugare intrattenimento a un contenuto c'è anche la scienza io in questi anni ho fatto divulgazione scientifica anche se non sono un esperto di scienza però in quanto curioso ho trovato sicuramente nella scienza un campo aperto e in particolare ho cercato di farlo con i bambini sempre con l'idea che se riesce a spiegare una cosa a un bambino riesce comunque a spiegarlo anche agli adulti e se riesce ad essere accattivante per un bambino riesce ad essere accattivante anche per le famiglie e credo molto nel nel connubio tra rigore scientifico e semplificazione della scienza che non vuol dire banalizzazione e vuol dire chiedere a chi la scienza la sa quindi quindi le persone ai professori a chi ha fatto della scienza una professione chiedo di mantenere veramente il massimo rigore scientifico insieme si cerca la via migliore per passare questo contenuto io ho un'esperienza diretta con dea kids che è un canale satellitare della di agostini con cui per cui ho ideato questo format che si chiama big bang che è fatto di format molto breve sono pillori di qualche minuto rivolte a un pubblico familiare dove appunto cerchiamo in maniera ironica e un po dissacrante di passare rigore scientifico quali sono le un po le colonne portanti del nostro format sono proprio queste correttezza scientifica termini giusti capacità di sdramatizzare si dice al bambino comunque si c'è al pubblico che quello che stiamo spiegando è una cosa difficile perché la scienza non deve essere presentata come una cosa facile deve essere una cosa scientifica una cosa difficile perché comunque le cose difficili piacciono ai più piccoli e li si accompagna a tentare di comprendere con esempi con metafere con ironia con disegni con le parole giuste con la ripetizione dello stesso concetto ma con forme e formule diverse la scienza stupisce la scienza scatena curiosità la scienza volta anche un po uno schiaffo quindi ti ti sveglia sono queste le cose che che calamitano la poi l'attenzione e sulle quali cerco di di puntare piace molto ai bambini il fatto che ci sono teste toste quindi grandi teste abituate a parlare agli adulti che si mettono in gioco per i più piccoli e diventano quasi delle spugne ai bambini perché hanno una personalità e sanno che si sta mettendo in gioco per loro si sta mettendo al loro livello e quelle capiscono che è un'occasione e che è un'occasione da sfruttare grazie a tutti 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 Grazie.